Finale 8 della Coppa Italia di basket amara per i quintetti del nord-est, a cominciare da Reier Venezia che contro la corazzata Virtus Bologna aveva ben condotto la prima parte di una gara comunque estremamente equilibrata. La seconda parte è stata invece un autentico incubo per gli oro granata nell'inedito completo di gioco dorato, con il serbo Teodosic a ribadire di essere un grande, grandissimo giocatore. Con lui Bellinelli e il georgiano Schenghelia, ben orchestrati da Hecate e Paiola, hanno scavato un divario incolmabile soprattutto per i tanti troppi errori della squadra di Neven Spachia, le cui incoraggianti medie di primo e secondo quarto sono letteralmente collassate. Termina con un più 14 per le V nere che si confermano favorite nel successo per la competizione nazionale. Dietro i felsinei c'è Dertora, terza forza del nostro campionato e ormai realtà consolidata della pallacanestro tricolore. Contro Dolomiti e energia Trentino, la squadra di Ramondino ingaggia un testa a testa appassionante che nell'addirittura finale dell'ultimo quarto sembra spaccare la partita a proprio favore con un più 14 per Dertona, ma senza fare i conti con il carattere degli uomini di Molin che a meno di 20 secondi dalla fine della gara arrivano ad un solo possesso dai piemontesi, bravi e capaci comunque di sfruttare al meglio due liberi dell'ex Reierino, l'argentino Figlioi per chiudere il match a più 4 ed ora la semifinale proprio contro Virtus.Bologna.